Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà all'Aquila il prossimo 16 settembre ad inaugurare l'anno scolastico degli studenti aquilani. Il decimo però, in MUSP, quei moduli che dovevano essere ancora provvisori. Nessuna scuola è stata ricostruita e così la commissione oltre il MUSP torna a farsi sentire in un'assemblea venerdì pomeriggio, mentre il liceo Cotugno, ad esempio, si appresta ad iniziare il suo decimo anno nel doposisma nella precarità più assoluta, in ben quattro sedi diverse. Intanto arriva una lettera al presidente della Repubblica, Mattarella. Affirmarla è Tommaso Cotellessa, 18 anni, rappresentante degli studenti del liceo Cotugno. Il 16 aprile Tommaso aveva 8 anni. Da allora, racconta il capo dello Stato, il mio percorso scolastico, come quello dei miei coetanei aquilani, è stato profondamente segnato dal sisma, che ha gettato un'intera popolazione nell'incertezza e nell'impotenza. Tuttavia, la scuola è sempre rimasta un presidio sociale ed un punto d'incontro per i giovani, ed è necessario che le venga riconosciuta l'importanza che ha avuto nel difficile processo di ricostruzione del tessuto cittadino, sottolinea Tommaso Cotellessa. Purtroppo, dieci anni dopo, nessuno degli edifici scolastici crollati nel 2009 è stato ricostruito. La mia scuola è divisa in quattro sedi e racconta, poiché non possiamo rientrare nel nostro edificio. La ricostruzione degli edifici scolastici è al palo e troppi studenti fanno ancora scuola all'interno dei MOSP, i moduli ad uso scolastico provvisorio, ma diventati per noi permanenti. Questi moduli sono una sorta di container di lusso che ci hanno consentito e ci consentono ancora di fare scuola nonostante tutto, ma resta il fatto che non parliamo di edifici veri e propri, ma di strutture per le più scadute da anni che necessitano di manutenzione. Dunque, la richiesta di un incontro al Capo dello Stato. In questo lungo periodo di precarietà che abbiamo vissuto e continuiamo a vivere, ci siamo spesso sentiti abbandonati e traditi dalle istituzioni, ma non abbiamo perso il loro senso e l'appartenenza al territorio. Sono certo che comprenderà, come massima espressione dello Stato, la necessità di esprimere la sua vicinanza a quanti, come me, hanno avuto questo travagliato percorso scolastico. Sarebbe auspicabile, se possibile, esprimere tale vicinanza attraverso la semplicità di un suo incontro, anche con una rappresentanza degli studenti dell'ultimo anno delle superiori.